No, perché devo metterlo nel sale. Bentornati sul set di Morellato. Come vedete, sono pronta per affrontare questa giornata. Perché voi non l'affrontate la giornata con un po' di fiume? Quindi, via il copione! Trucco e parrucco fatto. Pezzo forte in tutto questo, ovviamente, sono i miei accessori. Tre anelli di qua, tre anelli di là, i miei braccialetti, i miei orecchini e la mia collana. Et voilà! Let's go! Perché a volte non serve avere un'occasione speciale per sentirsi speciali. Io con i miei ragazzi, con questo abito e con questi gioielli, rendo ogni giornata unica e meravigliosa, ma soprattutto luminosa. Ecco, questa sono io. Più sono e meglio è. E non dovete aver paura di far vedere la vostra luce, perché troverete sempre chi è in grado di apprezzarla. Morellato. Gioielli da vivere.